e teresa non ci sta la fai dopo con la mamma e il patto non lo sapevo bravo adesso la fai dopo con la mamma e il patto c'è te la fai dopo con la mamma e il patto e non lo sapevo grazie grazie girate, girate Mariana, girate 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 no, 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 no è che facevo la comunità è, si trastrana no, no, non è che sei un cozzino non aveva idea dai Massimo, sorrino San Luizio. Il Signore di San Luizio. Grazie a tutti. 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 Credete nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito come già gli apostoli nel giorno di Pentecoste? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.